Quif Square, blade poltrona taglio, specifiche, pompa idraulica bloccabile con freno regolabile, schema ad alta densità realizzata con stampo, struttura interna metallica, base quadrata di metallo colore nero. Caratteristiche tecniche, lunghezza. 66 cm, larghezza. 62 cm, altezza minima. 44,5 cm, altezza massima. 56 cm, diametro della base. 55 cm, peso. 17,3 kg, carico massimo. 150 kg, tappezzeria. 25 cm, peso. 18,5 cm, peso. 17,5 cm, peso. 64,5 cm, peso. 75,5 cm, peso. 16,5 cm, peso.